Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'Osprey Talon 33, uno zaino super leggero con un sacco di funzionalità, con un sacco di idee implementate da Osprey, alcuni veramente molto carine e ingegnose, uno zaino sicuramente dai dettagli curati, uno zaino che mi è piaciuto e che adesso vi andrò a raccontare in questa recensione completa. Inizio subito col parlarvi della linea Talon, perché non esiste solo il modello da 33, esiste il modello da 11, 22, 33, 44, praticamente esiste per qualsiasi utilizzo di tantissimi colori il modello rosso, ma i colori sono veramente tanti ed esiste il modello da uomo e da donna. In questa recensione vedremo il modello da uomo naturalmente, ma poco, quasi nulla differisce dal modello da donna. Partirei subito con il parlarvi del suo peso, il modello da 33 litri pesa 1,1 kg, un peso veramente contenuto per quello che sono le dimensioni dello zaino e tutte le strutture che adesso vi mostrerò e vi parlerò. Partiamo dallo schienale, dai. Schienale dello zaino. Qui troviamo una parte che è a metà tra l'ergonomico e il telato, per quanto qua noi troviamo la nostra retina, ma come potete vedere si trova anche tutta la parte ergonomica fatta in schiuma di Eva. È uno zaino che si avvolge molto bene alla schiena, prende tutta la forma della schiena, fa proprio tutta la forma U della schiena. È uno zaino che scarica comunque bene il peso anche grazie alla fascia lombare, ma la traspirabilità secondo me non è a suo forte. E una scala da 0,10 gli darei un 7. Più che sufficiente, ma non eccezionale. Nel senso, utilizzate a temperature primaverili barra inizio estate fino ai 20-25 gradi, ok, quando iniziamo a salire di temperatura, inizia a fare caldo e si inizia a sudare tanto tanto, questo zaino non traspira così tanto e ci troveremo una schiena comunque sempre un po' bagnata. Continuando, come vi dicevo, per quanto riguarda lo scarico del peso, troviamo la fascia lombare, questa nella parte interna in tessuto traspirante, mentre nella parte esterna troviamo sia da una parte che dall'altra due comode ed enormi tasche dove possiamo andare a inserirci dentro telefoni, piccole macchine fotografiche, snack, barrette, gps. Ci stanno tantissimi oggetti e soprattutto sulla fascia lombare dove, anche se andiamo a esagerare un po' col peso, non lo sentiamo perché è ben scaricato. Ovviamente qua sul davanti ci sta di tutto di più. Per quanto riguarda poi la chiusura sul davanti con una semplice clip, funziona, non si allenta, anche con 10 kg non ha nessun problema. Ah, a proposito, io l'ho portato con 10 kg questo zaino per tante ore e lo scarico del peso è stato eccezionale. Nessun dolore, nessun punto di pressione, dopo tante ore non avevo la schiena a pezzi. Il peso viene scaricato veramente molto bene una volta che si setta. Inoltre, naturalmente, oltre alla chiusura lombare troviamo la chiusura pettorale con un semplice nastrino in cui c'è anche il fischietto. Nulla di più. E venendo ora a parlare invece di quelli che sono gli spallacci comodi, ben imbottiti, dopo tante ore non danno fastidio, fatti anche sull'esterno di questa retina e sullo spallaccio sinistro possiamo trovare una retina dove andare a riporre uno snack, un pacchetto di fazzoletti. Non ci sta un telefono neanche di piccole dimensioni. Diciamo che lo snack e i fazzoletti sono la cosa migliore da inserirci. Continuando la nostra descrizione dello zaino ve lo giro di taglio in modo tale che possiate vedere quella che è la tasca per andare a riporre la borraccia. Tasca in cui ci stanno borracce da un litro, forse anche un litro e mezzo, in cui troviamo nella parte alta la possibilità, tramite questa fibietta, di andare a tirare per andare a ridurre la grandezza dello zaino, idem sotto. Sinceramente a me quella sotto non piace, non mi è piaciuta su tanti altri tipi di zaini, per il semplice fatto che quando noi andiamo a inserire la borraccia, se tiriamo lo zaino non verrà mai serrato bene e poi faremo anche fatica a prendere la borraccia. Se invece non lo tiriamo non ha senso, però riusciamo a prendere la borraccia, quindi è un po' un controsenso. Ecco, la chiusura qua così non mi ha mai entusiasmato tanto. Su questo zaino le borracce si riescono a destrarle anche sullo zaino, ma non si riescono a inserire dentro. O togliamo lo zaino o la facciamo inserire dentro a qualcun altro. Continuando, girando ancora lo zaino, sulla parte anteriore troviamo questa tasca elastica in cui ci sta un sacco di roba davvero, c'è indumenti bagnati, anche perché abbiamo un foro sul fondo che fa uscire l'acqua, cose che dobbiamo portarci dietro di primo accesso. Adesso è molto ben spaziosa e si chiude sulla parte superiore con questa clip. Troviamo inoltre la possibilità di andare a inserire sul lato destro e sul lato sinistro i due bastoncini. Oltre a poter inserire i due bastoncini possiamo andare anche a inserire o due bastoncini da una parte e una piccozza dall'altra o due piccozze. Quindi questo zaino si dimostra multifunzionale anche da questo punto di vista. Salendo, parlando di quello che è il cappuccio, magari vi giro lo zaino così. Allora, da questa parte troviamo una tasca qua sopra, bella ampia, dove poter andare a riporre un sacco di oggetti, anche perché il tessuto è antitaglio, se dovessimo inserire il telefono o occhiali da sole. È molto spaziosa e se invece andiamo ad aprire lo zaino troviamo un'ulteriore tasca qua all'interno. fatta in rete in modo tale da poter andare a inserire ancora altri oggetti senza nessun problema. Molto, veramente molto spaziose queste tasche. Parlando un attimo adesso di quello che è invece la chiusura superiore, troviamo fibietta che va a chiudere quella che è la parte anteriore dello zaino con la tasca elastica. Sulla parte in alto invece troviamo un'altra clip da andare ad aprire che va a chiudere tutto il sacco dello zaino. Questa clip mi è piaciuta, mi è piaciuto anche il fatto che siano separate perché almeno se devo aprire la parte davanti non devo aprire tutto lo zaino, non devo andare a togliere il cappuccio e viceversa. Questa clip è molto utile perché noi possiamo andandola ad allungare inserirci qua sotto una giacca, una corda, ha un sacco di funzionalità, possiamo andare ad aggiungere ancora roba, anche un materassino, una tenda, ci si può aggiungere davvero tanto. E poi vabbè la chiusura diciamo principale del sacco si fa banalmente con il solito sistema di chiusura che andando a tirare il cordino poi si va a chiudere. Il sacco all'interno è una tasca unica, non c'è nessun modo di poter accedere se non dalla parte superiore, non troviamo quindi parti, compartimenti inferiori o zip che si aprono a tutta lunghezza, nulla, solo dall'alto. Una funzionalità che mi è piaciuta davvero tanto di questo Osprey è la possibilità di andare a riporre i bastoncini oltre che sulla parte posteriore dello zaino classica anche possiamo riporli a taglio sul davanti. In che senso? Noi qua in questa fettuccia andiamo a inserire la parte superiore del nostro bastoncino e qua in quest'altra la parte terminale col puntale. Noi così possiamo tenere i bastoncini sempre a portata di mano mentre camminiamo, possiamo andare a metterli e a toglierli molto facilmente senza dover andare a togliere lo zaino e per chi come me utilizza e mette via bastoncini molte volte durante una giornata beh non dover togliere lo zaino è veramente un gran passo avanti. C'è però da abituarsi perché naturalmente avere qua i bastoncini ci occupano spazio nel momento in cui noi camminiamo dobbiamo ricordarci tenere il braccio un pochino più aperto in modo tale da non andare a impattare con il bastoncino. È una cosa che dopo la prima, la seconda escursione al massimo ci si abitua tranquillamente. Per quanto riguarda le regolazioni di questo zaino troviamo sulla parte superiore vabbè le classiche due fibiette da andare a tirare per avvicinare lo zaino alla schiena funzionano bene, non si aprono anche con grossi carichi. la regolazione dello spallaccio, anche questa classica non si muove, è fatta molto bene ma inoltre troviamo qua dietro la possibilità di andare ad aprire lo zaino è abbastanza duro, dico la verità, però possiamo far scorrere su e giù tutta la parte dello spallaccio in modo tale da andare ad adeguarla all'altezza anche delle persone più alte. Io sono alto 1,90 m, sono riuscito a settarlo senza nessun problema, a utilizzarlo bene e c'è ancora spazio quindi anche per persone in due metri non sarà un problema. Lo zaino naturalmente è venduto in diverse taglie, io in questo caso ho preso la taglia M barra L esiste anche la taglia S. Per quanto riguarda la questione acqua abbiamo qui la possibilità di andare a inserire la nostra vescica con la possibilità di far uscire il tubicino e attaccarlo allo spallaccio destro. Per quanto riguarda invece il copri zaino non c'è, non è dato in dotazione, lo zaino non è nemmeno impermeabile quindi il copri zaino dovremo comprarlo a parte. In conclusione vi consiglio questo zaino? Sì, mi ci sono trovato bene. È uno zaino comunque che ha un costo ma forse neanche tanto alto per quello che offre. Comunque lo si trova tranquillamente attorno ai 120-130 euro scontato. È uno zaino che si può utilizzare praticamente quasi tutto l'anno. Ha un sacco di funzionalità, possiamo portarci dietro come abbiamo visto anche le piccozze, possiamo trasportare alti carichi, possiamo usarlo per escursioni di una giornata, escursioni di più giorni. È uno zaino che se lo comprerete praticamente lo utilizzerete quasi tutti i weekend quindi sicuramente è un acquisto che vi durerà anche nel tempo grazie ai suoi materiali che sono fatti veramente molto bene. Da questo punto di vista Osprey si dimostra sempre un'azienda che cura i minimi dettagli, utilizza materiali molto buoni, sempre all'avanguardia e anche questo zaino ne è la conferma. Questo zaino vi durerà davvero tanto nel tempo. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo anche per questo video, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao!